22 gennaio 2013, un mese fa è stato aperto a pubblico Parco Grazia, un'apertura contestata da consiglieri dell'opposizione per la presenza di una serie di carenze all'interno del parco, ma che è stata a sua volta contestata dall'assessore Migliaccio che in un comunicato stampa ha definito il parco fruibile, abbiamo reso il parco fruibile. Per verificare chi avesse ragione siamo tornati a Parco Grazia per renderci conto di come sia fruibile. Per ciò che riguarda i bagni? No, sono chiusi, ermeticamente chiusi. Le fontanelle non hanno acqua, tranne quella che c'è nella vaschetta dovuta alla pioggia. Una condizione comune a tutte le fontanelle, ma proprio tutte. Questa è la seconda. E qui c'è la terza. Andiamo verso la quarta. Anche qui di acqua, nemmeno una goccia. L'area dedicata al passeggio dei cani padronari è ridotta come un'area calpestata da una mandia di buoi. Il cordolo che delimita i vialetti è praticamente distrutto. I vialetti che dovrebbero essere percorsi anche da mamme che portano i loro bambini in carrozzina, guardate, sono una pista fangosa. E per concludere vi mostriamo anche un angolino dedicato ai rifiuti. Qui, ben al riparo dal vento, sono stati depositati degli elementi che sono evidentemente rifiuti. Mattoni, una sedia, cartoni, questa è una sacchetta di gesto, c'è una busta nera, un'altra busta nera. Lì c'è la scova che potrebbe servire a raccogliere questi altri rifiuti che si sono sparpagliati grazie al vento e in questa zona, grazie alla mancanza assoluta di controllo, perché non c'è alcuna vigilanza in questo parco, almeno fino ad oggi, è possibile che si abbia a breve una vera discarica. Considerando tutte queste carenze che vi abbiamo mostrato, è possibile concordare con l'assessore Migliaccio? È possibile che abbia davvero ragione a definire il parco fruibile?